Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. I genitori di Filippo Turetta, responsabile dell'omicidio di Giulia Cicchettin, sono stati intercettati durante un colloquio con il figlio in carcere a Montorio. I gnari delle registrazioni, hanno cercato di minimizzare il delitto, descrivendolo come un momento di debolezza e non come un atto deliberato di violenza. Hanno anche sottolineato che Filippo non è un mafioso o un terrorista, cercando di incoraggiarlo a non sentirsi colpevole e a pensare al futuro, inclusa la laurea. Eh vabbè, hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza, quello è, non sei un terrorista, voglio dire. Devi farti forza. Non sei l'unico. Ci sono stati parecchi altri, però ti devi laureare. Questo tentativo di sminuire l'omicidio ha suscitato una forte reazione da parte della famiglia di Giulia. Elena Cecchettin, sorella della vittima, ha criticato la normalizzazione della violenza sistemica nella società, invitando a rifiutare ogni forma di giustificazione per la violenza contro le donne. Anche il cugino di Giulia, Giovanni Passarotto, ha espresso delusione e rabbia per l'atteggiamento del padre di Turetta, che a suo avviso perpetua una cultura di impunità. La pubblicazione delle intercettazioni da parte del settimanale giallo ha generato un acceso dibattito sulla loro opportunità. Il senatore Pierantonio Zanettin di Forza Italia ha richiesto un'ispezione ministeriale, definendo la diffusione del materiale come voyerismo. Anche i radicali hanno criticato la pubblicazione, mentre la senatrice di Fratelli d'Italia, Susanna Donatella Campione, ha condannato le parole del padre di Turetta come ripugnanti. Rinaldo Romanelli, segretario dell'Unione delle Camere Penali, ha dichiarato che la diffusione delle intercettazioni non solo è inutile per le indagini, ma rischia anche di mettere in pericolo i genitori di Turetta, che stanno già vivendo una tragedia.